Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi spiegherò dove trovare le 10 torte per fare la sfida di ballare davanti alle stesse. La prima torta si trova qui, al lago Languito, dove sono stato appena ucciso dal simpaticone di turno, praticamente qua, in questo punto qua. Andiamo alla ricerca delle restanti. L'altra torta si trova qui, la seconda, a sabbie sudate, qui praticamente, quindi ballate davanti la torta, qui. Andiamo avanti. La terza si trova praticamente qua, a Burgobislacco, qua, dove sono io. Andiamo avanti. La quarta è qui, ragazzi, a Moli Molesti, qua, dove sono io, qua, praticamente, vedete? Andiamo avanti. La quinta è qui, praticamente, a Brughiere Brumose, dove sto atterrando io, vedete? Dove stanno anche sparando. Ballate, e voilà, ecco la quinta. Andiamo avanti. La sesta è qui, ragazzi, al dominio Doom, qua, vedete? Non potete sbagliarvi. Scendete e ballate. Andiamo all'altra. L'altra è qui, ragazzi, a Siepi d'Agrifoglio, qua. Praticamente, vedete? Nel parcheggio, cioè la trovate facilmente, quindi scendete e interagite ballando. Andiamo avanti. L'altra è qui, ragazzi, a Pantano Palpitante, qui. C'è anche un grosso regalo, tra l'altro. Quindi scendete e ballate. Vediamo anche cosa c'è là in regalo. A questo punto ci troviamo. Ok, nulla. Andiamo avanti. La nona, ragazzi, è qui, a Corso Commercio, dove ho messo il punto, qui. Non potete sbagliarvi, quindi, voilà. Andiamo all'ultima. E l'ultima, ragazzi, sta qui, alla Foresta Frignante, qui. Na 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 no na 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 na